Musica Occhiali e maschera insieme Allora prima di tutto andiamo a salvare Il completo con Cappello e occhiali che volete mettere Con la maschera Dove ci sono I distributori di bibite Prima dobbiamo mettere La maschera che volete Questa qua Mentre sta bevendo La bibita Schiacciate Touchpad Dari accessori E guarda Il glitch è fatto E comunque il video finisce qua Da Red è tutto ci vediamo al prossimo video Bella